Ehi la, buongiorno, buonasera pronti e benvenuti nel nostro canale Io sono Allie, io sono Ari e siete su Alliabri Channel Come avete già letto dal titolo, finalmente andiamo a sistemarci i capelli Di solito noi andiamo circa una o due volte all'anno dal parrucchiere Ma siccome abbiamo avuto una seduta di armocromia con Giada Con Armomania E abbiamo fatto anche ovviamente i TikTok delle sedute che vi abbiamo pubblicato su TikTok Dove ci chiamiamo Allie.Channel In cui abbiamo capito quali stagioni siamo E abbiamo anche capito che i capelli che avevamo precedentemente erano totalmente sbagliati Io sono una Summer Soft E io una Winter Deep Per cui i capelli che avevo, il tendente al giallo paglia I miei capelli erano tendente al ramato, quindi è un colore caldo Abbiamo deciso di tornare dai nostri parrucchieri di fiducia, ossia Gianni Fabio Qui a Verona, veramente ci andiamo da quando siamo nate Ma ancora prima, cioè i nostri genitori E tra l'altro si chiamano anche San Cassani come noi, ma non siamo parenti Esatto, è casualità E noi ci siamo affidati totalmente alla loro maestria Loro ci hanno fatto avere il risultato che noi veramente stramiamo e stra-adoriamo Esatto, che rispecchia finalmente la nostra stagione PS ovviamente non è obbligatore avere i capelli della propria stagione Comunque i capelli erano un po' rovinati perché ci siamo andati a settembre l'ultima volta E io volevo tagliarmeli, infatti vedete che come risultato finale li ho schiariti ma in sottotano freddo E li ho accorciati Mentre invece io un po' li ho stravolti, ossia sono tornata più scura Ovviamente adesso si tornano quasi neri Però andranno un pochino a scaricare e torneranno diciamo nel marrone scuro E in questo video vedrete appunto tutto il vlog che abbiamo registrato da Gianni e Fabio Esatto, con una super mega novità alla fine Ci hanno fatto in anteprima un trattamento con l'oro 24 calati shakerato Che è davvero un trattamento super mega high cost per i capelli meraviglioso Che arriva direttamente da Dubai quindi c'è cose mai viste E in realtà noi hanno dato soltanto un assaggino del trattamento perché poi ci sarà tutto un lungo procedimento E l'iscia Infatti per quello che avevamo l'oro sui capelli ma non importa Ma non importa Noi vi ricordiamo sempre di seguirci sul nostro sito di e-commerce www.alianicennel.it Perché dovete stare assolutamente tuned Perché se stiamo caricando tantissimi prodotti nuovi sull'outlet davvero scontatissimi E perché a breve andremo a fare nuove foto per i nuovi prodotti che saranno per uscire Maglio di lasciarvi alcuni miei video Ciao a tutti sono qua diciamo ferma al parcheggio che sto aspettando Lely e la mamma che vengono appunto Perché Lely stamattina è andata a scuola Mentre invece me la sono abbastanza ronfata Ho preparato tutto per andare dal parrucchiere Quindi il mio outfit è in palette La sito è questo Stiamo mangiando dei brezzel in macchina che Lely e la mamma hanno portato Sono anche caldi sono buonissimi Sono anche scaldati sono buonissimi C'è anche la bellissima Manca l'acqua eh vorrei dire Manca l'acqua No vabbè Eccoci finalmente siamo arrivate Vi faccio vedere il prezzo Troppo Chiara Troppo E noi siamo venute qui perché abbiamo deciso Esatto Di farci un restyling Soprattutto dopo la seduta di ermocromia Da qui abbiamo scoperto Che i colori di cui abbiamo i capelli Sono sbagliatissimi Qui da Gianni e Fabio come sempre Questi sono i capelli di Lely Che comunque sono molto chiari Ma sono diciamo tendente al giallo Mentre adesso avrebbe più un giallo freddo Una cosa fredda Vabbè Vi ha di entrare Are you ready? Lely ha montato la ring light Per avere più luce Lely sta scegliendo il taglio E come dispone i colori sui capelli Allora abbiamo montato la ring light Adesso io sono stata preparata Con la postazione Raga non vediamo l'ora Perciò è questo trattamento In anteprima Per vedere l'effetto sui nostri capelli E ovviamente anche la mamma Spara i capelli Solo che adesso è lì che blatera Siamo state tutte imbattate per le feste Cioè sarà una cosa un po' diversa dal solito Perché siamo sempre stati abituati a questi colori Almeno io Sempre abituata a questo colore Esatto Perché io si va per schiarire i capelli Noi invece andiamo a scurirle Let's go Un momento di silenzio proprio adesso Cioè se spinta perfino la radio C'è tutto silenzio Vabbè su richiesta dell'armocromia Eh questi mi stanno male Questi mi stanno bene Direi assolutamente inverno Sì sì Assolutamente inverno Deep Deep Proprio deep L'abbiamo deciso Tu sei consapevole ovviamente Che farai un cambiamento non è differente oggi Sì sì Cambiare è bello Però mossa Però non la frangetta Questo resta sempre un punto fermo Ecco l'azzurro e il verde Ah perfetto Wow Ti vedi la differenza tra la parte bianca Completamente lo posto nella cromia del viso Quindi tu sarai su un colore più freddo ma chiaro Quindi sistemiamo quello che è la nuance di colore Ovviamente però teniamo una tonalità di riflesso più fredda Perfetto Poi tagli corto mi hanno detto Sì un po' più corto Perfetto Tu preferisci tutte le punte bionde Sto più freddo Freddo bello chiaro Comunque come fatto di riferimento abbiamo scelto questa Ah questo è il colore che mi aveva consigliato Armomania Se con le mie panchie mi starebbe bene Guarda Direi proprio qui Non è andato La Ellie sta ancora così Bisogna sempre ottimizzare i tempi Io sto facendo il colore La mamma anche la vedete appunto nello specchio E Lauri invece sta aspettando Lauri sta facendo il lavaggio Perché prima di procedere con il colore Di cui il pennello grigio è per la vase Invece il pennello nero è per le punte Esatto Serviva appunto il lavaggio Ho finito di fare tutto Mentre Lauri sta facendo il lavaggio E di dietro c'è pure la mamma Sto anche ripassando un po' di latino ovviamente Con la nostra fantastica P6 Pro Eccola qui Lauri tornata dopo un Velox lavaggio Sei pronta Auri? Prontissima Iniziamo Adesso anche la mamma si sta facendo il lavaggio Comunque non so se avete notato Ma rispetto a settembre C'è stato un restyling del negozio Un po' che è in cosa Mentre Lauri è appena finito di fare la base Perché deve praticamente attutire le meshe chiare che aveva prima Esatto Andrà a scrivere il tutto Anche la mamma sta facendo il colore con Fabio Che è il nostro Comunque guardate tutte le decorazioni di San Valentino Io voglio farmi questo Auri Anche i rally La mamma è lì che sta procedendo al taglio perché la mamma ci sta facendo sempre i capelli super corti Allora mi hanno appena lavato i capelli Rally è ancora la lavarseli Si è un po' scherpato il colore ma è malissimo E non potrebbero sapere qual è il risultato In realtà sta mia ripostazione mi hanno subito rimesso qua Perché dobbiamo fare una cosa speciale Guardate adesso cosa andremo a fare Un trattamento unico Buonasera a tutti Benvenuti sul canale 5 In esclusiva per Ali e Auri Oggi vi presentiamo un trattamento curativo ristrutturante Fatto arrivare da Dubai A base di oli essenziali Acqua distillata Aghe thailandesi Selezioni di oli pregiati Selezioni di caratine Miele Il dolce sinfondo Oro 24 carati Solo per noi insomma Siete le prime in assoluto a provarlo Tutto condito in un mix Che dopo andremo ovviamente a shakerare Per poi distribuirlo Teniamo la sua bacinella In acciaio passivato Dove andremo ad inserire il prodotto E poi verrà applicato direttamente sui capelli Con tutta una decorazione È un trattamento top di gamma Dobbiamo ancora presentarlo Verrà effettivamente messo ufficiale Fa dieci giorni Beh allora è escludiva perfetta Cioè non vediamo ora di trovarlo Ora andiamo a preparare il miscuglio Nel frattempo Lelli è sparita Eccola al lavaggio Alice dove sei? Ciao Io nel frattempo sono ancora così Eccoci qua Mentre aspettiamo che il trattamento appunto si prepari Mai va alle telle Abbiamo incoltito il nostro personale Allora mi chiedevano qual era il scopo di tutto questo lavoro Giusto? Reintegrare i capelli con sali minerali vegetali Quindi abbiamo dei derivati giustamente che vengono sciolti Vengono rilasciati dalle alghe E le selezioni di oli che vanno a reintegrare Quello che è stato tolto poi nei capelli Per fare la schiaritura e poi per fare la tonalizzazione Che dopo giustamente Buona Però mi dici sempre che devo tagliarteli Perché sono secchi Esatto Bene adesso non lo saranno più Keratina Che noi avremo cura di scaldare Perché la faremo diventare liquida Miele Che adesso è in stato solido Ma verrà messo anche questo a scaldare Tutto liquida Loro 24 carati Ingrediente number one Super alghe thailandesi Che oltre ai capelli ti fanno anche un massaggio Li lasceremo decampare due minuti In maniera che la foglia si apra e rilasci i principi attivi Nello stesso tempo andrò a renderlo liquido Ok keratina e miele Aggiungiamo sono estratti di oli A questo punto andiamo a inserire profumo marittimo E ora E per concludere Il protagonista Il protagonista della serata Eccolo Loro la proprietà antiossidante Che va bene anche per i capelli Wow E adesso ci vuole gran colso Via l'applicazione Oh ecco il tutto La curiosità taglia Resisteranno i tuoi capelli Non lo sappiamo Dovrai chiedere il taglio tu E per condimento clinale No Foglie d'oro 24 carati Lauri sta procedendo con l'applicazione Di questo trattamento Adesso invece proseguiamo anche con il mio trattamento Lauri sta procedendo con l'applicazione La mamma lì che ha fatto anche lei ovviamente tutto qui Guardate che belli che sono gli adesivi agli Auri Cioè Vi vedete prossimamente Mamma che scicchia di mia Fabio sorridi Con la mascherina E anche come puoi notare L'oro scicchianato sui capelli Utile Ora stiamo preparando il trattamento appunto che andrà messo sui capelli dell'Elli Ma guardate che meraviglia Ora Fabio sta mettendo Le foglie d'oro Sulla testa C'è anche tu Ellie La testa dorata come la mia Abbiamo due fatine Comunque veramente abbiamo l'oro in testa E' veramente Certamente una parte del trattamento totale che verrà fatto in realtà Perché questo qui è un'anticipazione Dato che il trattamento verrà rilasciato tra circa dieci giorni Invece siamo le prime ad averlo provato Esatto Le foglie d'oro in testa Ora siamo al lavaggio Stiamo lavando via l'oro Ma è stata veramente un'esperienza unica C'è proprio l'oro in testa Vediamoci conto Ora sono appunto pronti Stanno sistemando le punte dietro Ma il risultato è veramente E ora finiamo con il taglio della Auri Ovviamente una mini spuntatina Perché l'Aurora l'avevamo provata a persuadere A fare qualcosa di po' più extra Una mini spuntatina a Carrè Giusto? No Ok abbiamo sistemato il taglio E penso che a breve dovremo asciugarli La giura è proprio bella Finalmente sono in palette Stiamo per fare un cappetto Non svegliare che anche da ora Il desiderio c'è Adesso stiamo piastrandoli E sono stupendi Quindi grazie mille Adesso visto che abbiamo lavorato di oro Esatto Concludiamo con oro Ebbè Finiamo le punte Con un olio molto usbile avanti Che toglie anche l'effetto diciamo un po' elettrico dei capelli È una bomba Ne basta una goccia Per finire in bellezza Resta un olio secco Quindi si asciuga subito Non dà nessun effetto Sì Voilà Addirittura Un'asciugata da due farottieri Guardate che risultato Veramente In paletta Eccola qui anche l'Ali Ho sistemato Veramente una sfumatura fatta a regola d'arte Per una seme esatto Esatto Abbiamo terminato Dire che sono belli È dire poco Io li ho tagliati più dell'Auri Mi spiace un mega capelli lunghi Piace molto di più Però ragazzi Finalmente siamo in paletta Grazie mille Fabio e Gianni È stata davvero una giornata super intensa Perché siamo qui dalle due E adesso sono le sei e mezza Però veramente il risultato è qualcosa di meraviglioso Con il trattamento Poi tutto il colore Che poi vi abbiamo fatto vedere soltanto una parte del trattamento Perché in realtà dietro si cela molto di più Ma è stata soltanto una piccola anteprima Esatto Un po' segreti del mestiere E anche Ho anche regalato questo fantastico La borsetta Avri stai proprio proprio bene Stai finalmente in paletta Ehi la Comunque le resta siamo in ufficio E Babati sono piaciuti i capelli Ha detto super E lui ci dice che sono bromusa Però va bene Il video termina qui Speriamo tanto che vi sia piaciuto Ovviamente noi abbiamo cercato di mostrarvi Tutto quello che ci hanno fatto i nostri fantastici parrucchieri di fiducia Veramente il risultato è stato qualcosa di eccellente Che ovviamente andremo anche a rifarci le unghie Le mie sono completamente in paletta Le mie sono completamente fuori dalla mia paletta E vi faremo vedere tutto nei prossimi video Anche su tiktok Su instagram O comunque Comunque l'armocromia è stata un'esperienza meravigliosa E noi vi consigliamo di andare a seguire anche Giada su instagram Che si chiama armomania Esatto perché ci ha aperto realmente un mondo E Gianni e Fabio sono stati davvero la nostra ancora di salvezza Esatto Noi appunto come ogni video salutiamo 10 persone Senti dal video precedente Allora iniziamo da William Un bacione Jennifer Un bacione anche a te Maria Sole Un bacione Anna Un bacione anche a te Margot Un bacione Auri Un bacione anche a te Fanpage Alli Auri Canem Un bacione Grazie mille per la fanpage Sofia Un bacione Eleonora Un bacione E per ultima Elena Un bacione anche a te Noi vediamo appuntamento lunedì Con il prossimo video Ciao Ciao